e quando io venendo dalla terra dei fuochi ho visto per 20 anni, io non li ho visti con i miei occhi ma ho studiato la storia e per 20 anni ho visto gente che sbaltiva illecitamente rifiuti tossici e si beccava le sanzioni come le multe in divieto di sosta, quando siamo arrivati lì, la prima cosa che ha fatto un mio collega, amico della Campania, Salvatore Micillo, è stato mettersi nella Commissione Giustizia per un anno a lavorare su una norma che dicesse che tutti i reati ambientali devono avere pene come reati di mafia e sono anche pochi perché la mafia spara, il reato ambientale se lo consumi oggi uccide tre generazioni e allora io Salvatore Micillo me lo ricordo benissimo i primi giorni lì, si mise nella Commissione Giustizia e scrisse una proposta di legge, me la portò dopo due mesi e mi disse firmala, la devi firmare anche tu, io gli dissi Salvatore questa proposta non passerà mai perché è di opposizione, le proposte di legge di opposizione sono difficilissime anche da calendarizzare, disse non ti preoccupare, dopo due mesi tornò e disse la stiamo discutendo, dopo altri due mesi l'abbiamo approvata all'unanimità in Commissione Giustizia e 4 mesi fa Salvatore Micillo si è alzato alla Camera in dichiarazione di voto e ha ottenuto il voto unanime per la sua proposta di legge sui reati ambientali dicendo guardate che voi con questo voto state salvando al massimo la faccia perché io ho fatto in 6 mesi quello che voi non avete fatto in 20 anni per la mia terra, in 20 anni e Salvatore come Davide, come Mattia, le persone di cui vi ho parlato sono tutte persone che non vedete in televisione, magari vedete più me, ma sono il motore del gruppo parlamentare, quelli che conoscono i problemi e non si sono dimenticati dei problemi quando sono entrati nelle istituzioni ed è questo il valore delle prossime elezioni, io non voglio parlare molto, vi voglio dire solo un'ultima cosa, noi abbiamo elezioni comunali e elezioni europee, i programmi saranno tutti uguali, forse ve l'hanno già detto, i programmi ce li copiano ormai perché hanno capito che sono vincenti i nostri programmi, perché sono quello di cui non si parlava da 20 anni in questo Paese, e allora qual è il metro per valutare una forza politica? Voi avrete parenti, amici che vi diranno sì voi dite questa cosa, sono d'accordo, ma la dice anche lui, sia sull'Europa che sulle comunali, e allora il metro, il valore con cui ci dobbiamo approcciare alle prossime elezioni non è il programma, ma la credibilità di una forza politica che porta avanti quel programma, che significa credibilità? Significa che devi avere una forza politica che nella sua storia ha fatto quello che ha detto, non ha detto soltanto, perché è questa la differenza. Allora vi faccio un esempio, noi vi avevamo detto che non prendevamo rimborsi elettorali, 42 milioni di Euro, non li abbiamo mai toccati, tutti quelli che in campagna elettorale a febbraio dicevano che li avrebbero rinunciato, hanno staccato tutti un assegno da 91 milioni di Euro al 31 luglio 2013, e io lo so perché ero nell'ufficio di Presidenza quando si erogavano quei soldi, e l'unica forza politica delle ultime elezioni che non ha preso soldi, è la nostra, ve l'avevamo detto e l'abbiamo fatto! Vi avevamo detto che ci riducevamo lo stipendio sul fondo per le piccole e medie imprese in difficoltà al Ministero dello Sviluppo Economico, ci sono già 5 milioni di Euro dei nostri stipendi che vanno alle imprese che hanno problemi, ve l'avevamo detto e l'abbiamo fatto! E cosa c'è dall'altra parte? Ci sono dei partiti che dicono che vogliono aiutare i pensionati e i cittadini e trasferiscono 7 miliardi e mezzo di Euro alle banche, a Unicredit, a Intesa San Paolo, gli trasferiscono i soldi e dicono dai ma dal gettito ci torna un miliardo di Euro, gli erai dati 7 e mezzo, te ne torna uno, credo che sei stato al massimo, nella migliore delle ipotesi uno scemo a dargli, ma c'è malafede, c'è malafede perché quei soldi dovevano servire ad aiutare le solite banche che stanno dentro MPS, che stanno in Monte dei Paschi di Siena, che devono aiutare il PD, che devono salvare la faccia a D'Alema, a Amato, quella gente là, è la gente che vi dice che fa le leggi per abolire le province e poi nella legge per abolire le province che non le abolisce aumenta di 26 mila unità i consiglieri comunali in tutta Italia e 6 mila 500 assessori in tutta Italia e toglie l'indennità a 3 mila consiglieri provinciali, credo che tutti abbiate notato che c'è qualcosa che non va, noi quando l'abbiamo letta abbiamo detto, ma voi veramente vi vantate di questa roba? State andando in giro per le TV a vantarvi di questa roba? Soltanto che le TV e i giornali lo sappiamo come sono, celebrano quello che dicono loro e massacrano quello che diciamo noi, qualcuno mi aveva mai spiegato dei provvedimenti di cui vi ho parlato oggi, nessuno, nessuno ve ne aveva mai parlato, i giornali di nicchia, le riviste scientifiche, ma non i giornali in media di massa e allora è questo, è tutto qua, per le europee tutti vi parleranno male dell'Europa perché stanno guardando i sondaggi e sanno che il 65% dei cittadini italiani, dato inconfutabile, quando sente parlare di Europa la brividisce e allora tutti vi diranno quello che volete sentirvi dire, ma qual è la credibilità di forze politiche che dicono che dobbiamo cambiare l'Europa dopo che l'hanno creata questa Europa loro negli ultimi 20 anni, qual è la credibilità? Non c'è nessuna credibilità da parte loro, sono gli stessi che nei comuni vi verranno a dire vogliamo cambiare il comune, ma perché non l'hai fatto negli ultimi 20 anni, lo stai governando da 20 anni sto comune, oggi la vuoi cambiare questo comune? Vi verranno a dire che dobbiamo cambiare il modo, i trattati, che dobbiamo rivedere i patti di stabilità, ma poi vanno dalla Merkel, si tolgono il cappello e dicono sì signore, obbediremo a tutti i vostri ordini, come ha fatto questo Presidente del Consiglio come hanno fatto tutti quelli precedenti e allora di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di mandare gente normale, gente normale anche lì e per questo io lo so, ho conosciuto molti siciliani nel gruppo parlamentare, ci sono Riccardo Nuti, Azzurra, ce ne sono tantissimi e in quelle persone io sento un'appartenenza, un orgoglio siciliano che è enorme, l'appartenenza a questa terra e io questo lo sto andando dicendo in tutte le regioni dove vado, noi alle prossime elezioni europee dobbiamo sentirci un po' più italiani, noi dobbiamo essere un po' più orgogliosi della nostra patria, del nostro paese, della nostra nazione e quando andiamo a votare non dobbiamo più permettere come alle ultime elezioni europee che a rappresentarci in Europa siano Iva Zanicchi, Mastella, De Mita e Cozzolino, gente che non ha niente a che fare col popolo italiano, è gente che guarda un po', va lì e pensa ai fatti suoi, è gente che è andata in Europa per cambiare la Germania, ma noi gli avevamo chiesto di andare in Europa per aiutare l'Italia e che cosa dobbiamo andare a fare in Europa? Sì c'è tutta la partita dei trattati, 50 miliardi all'anno per 30 anni, noi l'anno scorso non trovavamo 4 miliardi di Euro per l'Imu, 50 miliardi all'anno per 30 anni che dobbiamo dare all'Europa, significa che svenderanno Pompei, Ercolano, tutti i beni architettonici che avrete, venderanno tutto, le spiagge, le spiagge lui dice, non le venderanno, le daranno in concessione secondo la normativa Borchestein, significa che le concessioni dei maniali delle nostre spiagge verranno messe a gara a livello europeo, cioè le multinazionali si dovranno sfidare col signore che ha il lido di famiglia da 30 anni e chi vencerà secondo voi? Queste normative sono state fatte per venirsi a prendere in Italia tutto quello che abbiamo di buono e dopo ci diranno potete andare via dall'Europa, non è più uno scandalo che dite che volete andare via dall'Europa, ci siamo già presi tutto, si sono già presi tutto e ci abbandoneranno, allora è questo tutto, noi dobbiamo andare lì, cambiare queste normative, difendere l'Italia e farlo con parlamentari veri, non con marionette, non con assenteisti, non con gente che va in Europa e sta sempre nelle TV italiane, è questa tutta la storia, vi chiedo un po' di orgoglio, perché noi quando siamo orgogliosi di quello che facciamo diamo il meglio di noi, quando siamo stati orgogliosi del Made in Italy, abbiamo prodotto col Made in Italy delle eccellenze che ci invidono in tutto il mondo, quando poi abbiamo cominciato a seguire gli scienziati economici che dicevano che dovevamo internazionalizzarci, allora abbiamo cominciato a fare una produzione in serie scarsissima che nella prima occasione quell'azienda ha delocalizzato e se n'è andata da un'altra parte, noi dobbiamo difendere quello che abbiamo di italiano e bloccare in Europa queste normative, è questo tutto quello che dobbiamo fare, vi chiedo di darci fiducia, ma non solo fiducia come un voto, dateci fiducia, stateci vicini, chi andrà in Parlamento europeo si batterà con le lobby più potenti del mondo, ma le lobby non possono ricattarti se tu sei una persona onesta, perché non possono ricattarti, non hai fatto niente, se non hai fatto niente non ti possono ricattare. Come è capitato in Parlamento italiano che sono venuti da me, piacere, sono un lobbista, vorrei parlarle della nautica, ho detto guardi della nautica ne va a parlare nei saloni della nautica e lei come lobbista qui non ci mette più piede finché non abbiamo fatto il registro dei lobbisti e lei dichiara perché viene, chi incontra e quali sono le motivazioni dell'incontro, come si fa in Inghilterra che ha la normativa lobbistica più grande e più importante del mondo. Io questo è tutto quello che avevo da dirvi su quello che sta per succedere, poi ci saranno tante altre cose di cui parleremo nei prossimi mesi e nei prossimi anni, il Movimento 5 Stelle si appresta a fare un'impresa in Europa, i giornali inglesi parlano già di risultato storico, non c'è un movimento nella storia del Parlamento europeo che abbia mai portato esordiente più di 15 parlamentari, noi siamo già accreditati a 20, questo significa che mentre tutti parleranno della Le Pen, di Alba Dorata e dei partiti dei pirati, stanno facendo i conti come sempre senza l'oste, probabilmente arriveranno movimenti da tutti i paesi europei, ma noi saremo l'avanguardia, ci metteremo insieme in un gruppo parlamentare con movimenti come il nostro, simili al nostro, che condividono le stesse sofferenze, quelli che si sono sentiti dire che la riforma fornera era giusta perché ce la chiedeva l'Europa e hanno massacrato i pensionati e i giovani, pure negli altri paesi è successo, non è successo solo da noi e questi movimenti si metteranno insieme e noi saremo l'avanguardia, noi dobbiamo anche essere orgogliosi di essere italiani perché in questo paese abbiamo fatto una rivoluzione politica che non ha precedenti nella storia occidentale, non c'è un movimento esordiente che fa la prima forza politica alle elezioni nazionali con 9 milioni di voti, non è mai successo, mai, mai e anche in Europa succederà così, da tutti i paesi europei nasceranno nuovi movimenti 5 stelle, diventeremo una comunità europea, una comunità europea che invece di vedere i greci mangiare cibo scaduto nei supermercati, la aiutava, noi se fossimo stati una comunità avremmo messo lo 0,1% del nostro PIL per aiutare i nostri fratelli greci e questa è la fine che faremo noi perché non ci aiuterà nessuno, perché dopo la Grecia ci siamo noi secondo gli indici, allora o creiamo una comunità o l'unione ci schiaccerà e quando tutti mi domandano del referendum sull'euro come diceva Giancarlo, io dico sempre, noi andremo in Europa, gli daremo l'ultimatum, o cambi, o parli di lavoro, o parli di pensioni più alte, oppure non saremo noi a chiedere il referendum sull'euro, sarete voi con i forconi a Montecitorio a chiederci di uscire e a dire adesso basta perché ci avete svenduto tutto ed è questo, tutto qua, grazie. Grazie 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 Grazie